Siamo al Philip Kotler Marketing Forum in compagnia di Massimiliano Caporuscio, New Business Development Director di Unilever. Il precision marketing punta il focus sul consumatore come individuo. Quale ruolo riveste la marca in questo processo? La marca riveste un ruolo cruciale, ha una responsabilità. La responsabilità primaria è quella di capire il proprio consumatore, qualunque sia la categoria di riferimento, e dare risposte concrete a quelli che sono i suoi bisogni. Il precision marketing e gli strumenti che oggi abbiamo, digitali, che oggi abbiamo a nostra disposizione, diventano un mezzo attraverso il quale si possono dare risposte ancora più mirate e ancora più concrete. Unilever è una complessa realtà che comprende brand molto diversi tra loro. Come armonizza questa diversità in un'identità di marca coerente? Marketing è un'attività unica, qualunque sia la categoria di riferimento e le marche di riferimento. Sicuramente ogni manager ha magari delle predisposizioni più per un ambito food rispetto a personal care o viceversa. Quindi ci possono essere delle predisposizioni o delle attitudini dei manager verso certe categorie e se ne deve tenere conto. Per esempio io sono un amante del mondo del food e quindi la mia parentesi nel mondo personal care è stata abbastanza limitata. Detto questo, che quindi è un po' un'eccezione alla regola, in realtà le regole del gioco sono molto simili e quindi si tratta, come dicevamo poco fa, di capire il consumatore rispetto a quelle che sono i suoi desiderata e fare insieme a lui quel customer journey di cui si è parlato anche nel convegno di oggi e accompagnarlo nelle scelte per soddisfare le sue necessità. Qual è la sua essenza, la sua caratteristica principale? Quello che io ho definito come mio purpose personale è creare valore per le persone attraverso le persone che si sostanzia in una modalità di lavoro con i miei team molto particolare dove c'è una delega molto elevata e dove c'è una capacità di ascolto molto elevata perché penso che tutte le persone che fanno parte di un team siano quelle, specialiste di ogni marca e di ogni categoria, siano quelle che possono dare il valore aggiunto più elevato nel rispondere ai consumatori. La lasciamo con un dono acqua dell'Elba, le regaliamo il nostro profumo. Grazie. Grazie a lei, arrivederci.